Benvenuti ricercatori, abbiamo deciso di chiamarci così, io ricerco da un sacco di tempo e penso anche voi se siete qua. Questa volta parleremo della tragedia dell'insufficienza. Di fatto la nostra cultura ci porta a credere di non essere mai abbastanza, non siamo abbastanza bravi, non siamo abbastanza ricchi, non siamo abbastanza belli, non siamo abbastanza potenti, non siamo abbastanza sexy. Di fatto se noi guardiamo le cose dal punto di vista dell'energia siamo invece perfetti, sani e possiamo vivere nell'abbondanza, nella totalità di tutto quello che la vita ci può proporre. È proprio per questo che io mi sono stupita in tutti questi anni vedendo delle persone assolutamente paralizzate e non consapevoli delle loro infinite capacità. Allora mi sono chiesta ma perché? Perché le persone che hanno tutti questi talenti e ognuno di noi li ha? E di questo io sono certa perché ho visto cose bellissime in tutti questi anni a cadere e sono state le singole persone che hanno trovato il coraggio di cambiare e di guarire oppure di cambiare radicalmente la propria vita. È in ognuno di noi questa capacità. Allora perché non ce la riconosciamo? Perché manchiamo di un tipico, di una modalità di ascolto particolare. Di fatto la vita ci incalza, ci impedisce di ascoltare tutte le informazioni che dovrebbero arrivarci da tutti i piani della nostra coscienza e quindi su queste informazioni parziali noi prendiamo delle decisioni che sono contrarie a quello che realmente siamo. Questo ci porta a creare una tensione. Questa tensione ci può portare, se inascoltata, a creare un sintomo patologico. La mia esperienza di tutti questi anni mi ha portato a vedere la perfetta sincronia che esiste tra una particolare modalità di essere teso e la manifestazione nel fisico. E mi chiedevo ma ci sarà un momento in cui noi possiamo fermarci prima. Allora, da questa intenzione, quindi da questa volontà di prevenire la malattia, è nata la comunicazione energetica. Quello che io propongo ora, proprio perché accoglie delle istanze che normalmente non vengono disattese. E come termometro di questa, diciamo, di questo malessere, invece del sintomo sono andata a livello precedente, a livello emozionale, con il disagio. Per cui noi parleremo nei prossimi giorni dei disagi.